L'applauso naturalmente è tutto per De Andrè, chiaramente in questo concerto al vivo non era per noi, non era un applauso registrato, ma io farei tanti applausi a una prostituta del film, che non scherzavo, era una battuta naturalmente, abbiamo qui al mio fianco in questo momento che è arrivata un po' in ritardo, per questo era un giochetto insomma, però veramente nel film interpreta la prostituta. Sì, sono un'amica di Martina Stella, un'amica di Martina Stella, è una collega in tutti i sensi, sia come attrice che come prostituta nel film, è anche una collaboratrice saltuaria di Radio Roma, che tra l'altro mi diceva di ci segui da tempo, è anche un'ascoltatrice tra l'altro, è tutto con Radio Roma, lei fa parte di Radio Roma. Sì, amo! E questo era rivolto a Giuseppe, che vedevo subito che l'ha detto guardando Giuseppe. Ma abbiamo augurato un buon 2 giugno a tutti i nostri ascoltatori. Questo l'ho già detto prima, tu Antonella sei arrivata alla fine della trasmissione e mi dici pure quello che devo augurare. E vi devo dire la verità, questa sera abbiamo un altro film, adesso solo per fare una piccola digressione, che uscirà nelle storie. E lo so, non si può dire perché Rosario dice che poi è concorrenza quella, comunque il film è Punto Rosso. Siamo qui per ballerina però. Punto Rosso che sverrà, dove è? Nella sala? Sulla Cassia viene presentato, vicino al Picchio Rosso. Punto Rosso, Picchio Rosso. Sì, sì, tutto un'analogia. Tutto rosso sulla Cassia, tutto quello che è rosso si fa sulla Cassia. Senti, ritorniamo ancora, adesso scherzando perché con la Salvucci siamo amici da tanto tempo, con Antonella Salvucci, dall'altro non l'avevamo neanche presentata ancora, Antonella Salvucci, che ricordiamo l'ultima volta che l'avete sentita, ascoltata appunto su queste frequenze, su 103.9, è stato perché è stata la nostra inviata fuori dal Teatro Ariston, nella grande puntata, puntatona su Sanremo, di 6 ore appunto qui in diretta su Radio Roma, in occasione appunto del Festival di Sanremo, e Antonella ha realizzato le interviste fuori dal festival, fuori dal teatro Ariston, e adesso si trova invece qui, nel teatrino Ariston, qui a Radio Roma, e naturalmente ha partecipato a questo film come una collega di Martina Stella, parlavo proprio nel film. Antonella, tu come ti poni nei confronti di questo fenomeno? Beh, questo è un fenomeno davvero, insomma, increscioso, che sta crescendo poi, perché devo dire che ormai non si parla d'altro, e questo... Quasi crescioso, allora, visto che sta crescendo. Esatto, e poi questo, diciamo, cortometraggio serve proprio a questo, a sensibilizzare il grande pubblico, portarlo al cinema... Guarda che, guarda che Rosario Enrico la prossima volta non ti fa più lavorare con lui, sai perché? Perché l'hai chiamato cortometraggio, questo non è un cortometraggio ma è un film breve, lo stiamo dicendo, mi ha corretto già dieci volte dall'inizio della puntata, adesso tu lo chiami cortometraggio, Rosario Enrico già ti ha guardato male... Va bene, allora parliamo, ecco, un film breve, ma si può anche dire cortometraggio, va bene, poi questo discorso lo prenderemo... Lo farete voi in privato, basta, se fai cambiare idea a lui va bene, ma qui lo chiamano film breve, lui già mi ha guardato male e si è arrabbiato. Ha qualcosa di diverso rispetto ai cortometraggi che di solito vengono presentati, qui c'è una grande qualità, è un film a tutti gli effetti, anche se dura 16 minuti, quindi dobbiamo fare questa precisazione. È una sceneggiatura che mi ha colpito da subito, quindi colpisce sia il pubblico ma anche noi attori che ne abbiamo partecipato, ti rimane qualcosa addosso. Attenzione se lo chiami film cortometraggio un'altra volta ti colpisce davvero la sceneggiatura, ma parlo quella... Scusate, volevo... Non riescono ad essere seri questi ragazzi oggi. Volevo, parlando di sceneggiatura, volevo salutare anche l'autore del soggetto, che è Stefano Famiglia, ciao Stefano, e ringraziarlo di aver collaborato con Maestria a questa storia, tra cui è un autore che lavora spesso nel sociale, tra i veri film che ha scritto, oltre a ballerina, anche di Voglio bene Eugênio, che ha affrontato i problemi di un down, ecco, di un giovane disabile. No, no, perché diciamo che siamo normalmente in ritardo con la pubblicità, ci sta incombendo, dobbiamo passare la linea della legge immediatamente per la pubblicità, che poi ritorniamo subito in studio. In Eugênio 7. Radio Roma. Io penso che la maggior parte addirittura neanche guardano oltre la ragazza, quello che c'è alle spalle. In quel momento il loro intento è ben altro, forse sono anche poco informati a questo punto di vista, probabilmente. Infatti io tra l'altro vorrei far parlare a Antonella, sono 9 milioni i clienti dei transessuali in Italia, tu pensavi 9 milioni sono, tu sapessi che erano gli spasimanti. È una cifra imbarazzante. 9 milioni i suoi spasimanti, ma sono 9 milioni addirittura anche i clienti dei transessuali, non solo i suoi spasimanti. Ma quello che fa paura, poi in questo film emerge benissimo, è che vengono uccisi i sogni delle ragazze, in questo caso una ragazza piena di belle speranze, giovane, carina, che aveva il sogno di fare la ballerina, invece viene dirottata su totalmente un'altra strada. Poi alla fine, vabbè, in questo caso vediamo l'uccisione della ragazza, ma quando vediamo l'uccisione di un sogno, quello è molto grave, perché una persona non si riprende più, se non ci sono sogni non c'è vita, e ti rimane un grande vuoto dentro. E questo infatti secondo me poi il tema che emerge da questo film. Io devo dire alla prima, quando eravamo l'8 marzo, quindi l'occasione della festa della donna, ha colpito tutti, ma non solo le donne, quanto più gli uomini, perché si sentivano vicini a questo problema, e non sapevano come arginarlo naturalmente. Senti, un'altra cosa che volevo dire, è invece il discorso dei rapporti non protetti che ho ascoltato prima. Spesso c'è questa richiesta che sembra quasi partorita da una mente malata, una mente insensibile, ma anche soprattutto incosciente. Soprattutto si parla di persone sposate che hanno una famiglia, hanno dei figli, una moglie che li aspetta a casa. Forse proprio perché non si sa più come provare emozioni sempre più grandi, anche trasgressive, anche che ti portano poi verso la morte, perché poi è quello, no? Il finale, come abbiamo visto questo caso emblematico di quest'uomo con la tubercolosi, la forma gravissima che ha voluto girare il mondo facendolo apposta, quindi non solo facendo del male a se stesso, ma soprattutto agli altri. Quindi è quello che poi dai anche agli altri un tuo problema, e non va bene. Ciò tra l'altro si parla molto di HIV, di AIDS, ma ci sono anche l'epatite C, per esempio, che è molto più diffusa. Ci sono tantissime le malattie sessualmente trasmettibili, però. Queste sono trasmettibili, tra l'altro, molto più facilmente, l'epatite C, senza calcolare poi le varie malattie venere, che sono sicuramente più lievi, più facili da ebellare, non portano magari alla morte, però sicuramente ci sono anche malattie un po' più gravi, anche a livello venereo. Tu non pensi che sia anche una scarsa informazione, perché si parla molto di HIV, però per il resto non si parla. Sono tante veramente le persone che noi vediamo morire spesso, e spesso non si pensa che magari siano state quelle malattie, siano state trasmesse sessualmente. Noi vediamo soltanto l'HIV, per effettivamente quanti tumori al carcinoma e al fegato, magari che derivano da un'epatite C, che magari è stata trasmessa sessualmente, che magari vediamo morire, e quasi nessuno pensa che è morto di tumore. No, è morto perché aveva contratto l'epatite C. magari con una ragazza di 17 anni, di 16 anni, che magari dice ne venne 18, magari a cui ha chiesto un rapporto non protetto, e magari la propria moglie ha anche un'epatite C, perché ha avuto un rapporto non protetto con quella ragazza, magari a quella ragazza stessa le era stato attaccato, in qualche modo trasmesso il virus da un altro incosciente, che aveva chiesto rapporti non protetti, e magari è una catena, un circolo vizioso, perciò non è morto di tumore al fegato, ma è morto da un'epatite C che aveva contratto sulla strada. Questo aveva fatto un esempio un po' classico, però insomma sicuramente ci sono state di queste situazioni. La scarsa informazione gioca un ruolo predominante, ed è per questo che, come ci diceva l'assessore, magari questo film andrà direttamente nelle scuole superiori, proprio per divulgare la notizia, proprio per aiutare a capire meglio e giustamente sensibilizzare su questo argomento, che non è mai troppo farlo, più volte devo dire. Bene, a questo punto io mi fermerei un attimo, perché dato che andiamo un po' oltre di qualche minuto oggi, io c'è il GR che è in comune, perché tu hai parlato di informazione, io non posso assolutamente esibirmi dal far ascoltare, appunto, in maniera molto molto puntuale appunto, il GR delle ore 18, che esattamente scatta fra 4 secondi. La linea basta alla regia per ascoltarci il GR, e poi per le conclusioni torniamo in studio. Radio Roma Siete su Radio Roma